Il Politecnico di Torino È stato bello passare mentre le persone studiavano, lavoravano Giuseppe Mosca è uno dei 30 che pantaloncini e maglietta hanno corso lungo i corridoi di Politecnico e di General Motors per più di un chilometro e mezzo Poli Tour Run, settima edizione, a dare il via è il rettore del Politecnico Marco Gilli In gara, atleti dell'esercito, studenti, sportivi del Custorino E uno di loro, Stefano Gavrilli, iscritto a Sociologia, il primo classificato, 4 minuti 37 secondi Tra gli ospiti i giocatori dell'Auxilium Basket, Giacchetti e Siracov La corsa è il momento centrale di un'intera giornata dedicata allo sport Il FUS la organizza al Poli da 12 anni Stimola a ricominciare o a continuare per chi lo pratica già Tappeti elastici, karate, danza, basket, tennis Sin dal mattino nel cortile centrale trasformato in palestra Gli studenti si sono cimentati in molte delle attività promosse dal centro universitario